Sì, oggi siamo qua per fare tutti i record mondiali di tutte le mappe con tre ospiti speciali. Andrea, Morgan e Tommaso, salutate! Ciao! Come vedete ho pochi Istanbul Cons perché appena uscito lo speciale 500 iscritti gli ho fatto 72 spinnati, quindi andatelo subito a vedere perché sono successe certe robe. Siamo impazziti, quindi iniziamo. Sono bello come me. Ok, ora siamo tutti e quattro, quindi speriamo di fare il record e iniziamo. Ok, guardiamo subito cosa si esce. Dai! Umbl e Stumble, come per fare il record mondiale è abbastanza buono, dai! Quindi iniziamo, 3, 2, 1, via! Ho iniziato, ho viato un po' prima, quindi mettiamo un secondo in meno ragazzi. No, ho giocato un altro. Eh, non ho visto, ma... No, no, le motte, raga! Ho le motte di settimane. Non le mette! Le andrò a mettere dopo. Vabbè, intanto siamo primi. Il mio record mondiale non lo fa. No, io è probabile. No, ok. Ma quanto è il record mondiale? Ah, però meglio, le motte non vanno già nei record mondiali. E qualificati a 24 secondi. No, non è mai via. Ok, ragazzi, ora semipenale, guardiamo cosa ci esce. Dai! Space Race. Ok, il record mondiale è stossa. Ok, quindi, iniziamo. Ora, però, se due secondi dopo, perché ho avviato due secondi coso, quindi dobbiamo mettere due secondi in meno. Io qui devo fare il trick dell'asteroide. Bodyblock da parte sua. Si fa il trick cozzo, ragazzi. Questo è probabile il record mondiale. Questo è probabile. Ma quanto è il record mondiale? Poi andremo a vedere alla fine. No. Cosa no? Ho fatto il trick bene? Eh, perché è andato un po' più indietro, pensavo che non si facesse così, così cadere. No! No, che sì, non è il record mondiale, ho sbagliato alla fine. Ma secondo me il record mondiale è 45. E 45? Quanto è? Andremo a vedere. No, ma nemmeno 40, perché... Tra tre, il meno. Boh, io sono a 45 secondi. No, che è 45. E sono primo? Non è, non è il record mondiale. Non è il record mondiale. Come? Un po' per tre. Ah. Vabbè. Qual è? Qualificato. Destra. Destra. Ok, finale, guardiamo cosa ci esce. Per il momento... Oh, la nuova mappa, ragazzi. Vabbè, ho nominato il stesso quadri fa. Sì, vabbè, l'ho detta io quando ho stoppato il video, però... 3, 2, 1... Ora ho avviato bene, quindi né un secondo in più né uno in meno. Allora, ragazzi, no pugni, bisogna fare record. Io devo capire perché non ho le moto. Massimo, il pugno lo volevo. Ma cosa? Io, fedele, ho preso l'accantora. Perché, ragazzi, se non lo sapevate, ho perso l'accanto. E quindi... Sì, grazie a Morgan, sì, perché Morgan, perché non mi va più il filo, quindi ora ho un altro telefono, ovviamente, però ho salvato... E lui, Morgan, mi ha aiutato, quindi nei commenti scrivete Grande Morgan, voglio uno spam di Grande Morgan, che mi ha aiutato a... Infatti abbiamo fatto lo speciale apposta. Ragazzi, 40 secondi, sono già morti 4. No! Ragazzi, sto laggando un botto, non tirate morto, mi fanno laggare. Dovremmo sperare che morisse. Eh... Ok ragazzi, è appena passato quasi un primo minuto. Che culo, lavi! Ma c'è un botto, what? È morto con... Non c'è un botto. Un minuto? Un minuto passato. Se muore quello lì... È morto. Senti, dai, noi amici. Dai! Ma sono tutti con... Io e Morgan, ragazzi? Sono tutti con... No! Dai! GG per Morgan. Un minuto e dodici. Ok ragazzi, è uscito con il flip record, e già attento se io passo, quindi... GG. Ok, non ho fatto i doppi salti perché ho viato. Madonna, io non faccio l'acqua. No, ma... Ragazzi, ho messo la scivolata, non so quanto vale. Se la fa, c'è, devi fare il king. Sì, vale. Ragazzi ho perso, non è il record, è sotto la scivolata male. Se la può fare il king. Però aspettate! La scivolata non andava solo. Bella roba, è il primo minuto. Non è tutto questo. Sei incastrato? No, adesso ho avviso un modo. Sei incastrata all'inizio? Io non faccio rete. Dimmelo prima. Forse non ti ho. Ma perché ero più coglione? Ok ragazzi, era andata ad aiutare Morgan, però lui si è salvato da solo. No, bello! Quale piccato con un minuto e otto? In questo round siamo stati bravissimi, secondo me abbiamo fatto il record mondiale. Un minuto e dodici per me è il record mondiale, vero, vero, dai. Un minuto e dodici. Ma per forti. Infatti abbiamo giocato benissimo. Guardiamo cosa ci esce. Dai, non care. Su slide. Raga, 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 raga. Io metto tre secondi in meno. Ho già avviato? Tre secondi in meno. Via. Sì, tre, tre. Così questo ce la facciamo. Oh ragazzi, io e Tommaso siamo avvantissimi. Trick? Tommaso potrebbe fare già il record, me lo sento. Io raga, no, io raga, no. Ci sono stati dieci minuti al primo pezzo. No! Tommaso è caduto ragazzi? No! 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 No ragazzi. Siamo a 30 secondi. Non urlare. Come non qualificarsi? Come diceva 30 secondi? 35, 36, 37. Il vecchio record mondiale. 39 secondi. Il vecchio record era 39. Ragazzi abbiamo fatto 39 secondi, ma mi ricordo che ho avviato quando c'era scritto 3, 2, 1, perché me la volevo giocare, quindi ho fatto 36 secondi, gg per me. Finale, speriamo di fare il record. Laser laser! Bella stama parata. Avete fatto due game? No, questo è... Ok ragazzi, aspettate, ora vi ha modo. Sì, ma hai fatto due game. Questo è l'ultimo, penso. Ok ragazzi, abbiamo... Fede, ho capito, Fede, sto facendo il video. Ragazzi, qua si deve traguardare. Scusate ragazzi se si parlerà un pochino. Eh vabbè, stavo dicendo. 5, 3, già forza. Dovevo arrivare le 4 in finale. Andrea, intenzioni te, Andrea, intenzioni te. Allora, ciao a tutti ragazzi. No ragazzi, ragazzi. Se vuole tentate anche a seguire questo mio amico. Sì, sì, quest'oggi dovrebbero riuscire a fare il record mondiale. Oh, e te ti ripugni. Dopo, dopo eliminare questo stumble guy. Eh no, si chiamalo così. Ragazzi, sono passati 40 secondi e sono già non lo schifo. Ok, eliminiamo questo stumble guy. 6, 2, 3, adesso in finale. Non parlarti. Ma come? Parli troppo, parli troppo velocemente e nessuno ti capisce. Cristian, ma non guardare. Ma la te puoi parlare, basta che non parli troppo velocemente come fai ora. Ok. Ragazzi, siamo noi tre. No, non ho visto il laser. Io ragazzi, io ti ho matto. King Rale 104, OCN Cristian. No pugni, giochiamo, dobbiamo fare il record. No pugni, ok. Un minuto. Un minuto. Vabbè, un minuto e 14 preciso, quindi GG. Ciao. Ciao. Ciao.